C'è un po' di indecisione ad inizio, un nuovo mese per i mercati delle criptovalute. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a guardare un po' di cose nuove e prepariamoci a quello che è il mese di marzo per cercare un po' di guardare i dati, dei numeri, di quello che ci possono mostrare le tabelle e capire un po' che cosa potrebbe succedere, in effetti, anche nel mese di marzo. Febbraio che era iniziato bene e poi è stato un mese che non ha concluso. Benissimo, non è stato concluso in maniera benissima, bellissima, però in sostanza ancora positivo. Vi faccio vedere una tabella che riassume un po' questi dati e insomma andremo ad analizzarli insieme. Ma questo è il grafico che invece vedremo verso la fine del video, ragazzi, di cui vi voglio parlare perché questo è un grafico molto particolare, andremo insieme a trovare una anomalia, diciamola così, oppure una similitudine. Bisogna comprendere un po' da quale lato guardate il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto e andremo un po' a ragionarci insieme. Prima però di iniziare questo video, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per seguire tutte le vicissitudini, soprattutto del lancio del Bitcoin che è già pronto qui con me. Vediamo che cosa ci dice, siete pronti? Ok, lo rilanciamo. Oh mio Dio, eh, ragazzi, vale, questo è, vi assicuro, è la quinta di fila, nuovamente long. Ok, nuovamente long, ancora il lancio, quinta lancio di fila che la moneta ci dà long, 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 long. Quasi quasi conviene fare uno short per vedere se si fa al contrario, va bene uno short piccolo. Va bene, allora, detto questo, passiamo subito a guardare quello che è la prima tabella, poi vi assicuro che andremo a leggere un articolo che è stato pubblicato proprio pochi ore fa da Cointelegraph ma è interessante perché ci porta ad un'ennesima stima di un prezzo di Bitcoin che è vertiginoso, ragazzi. Veramente vertiginoso, quindi un target price come non mai visti, cose da milioni di dollari. Giusta, non giusta, perché non è proprio una stima campata in aria. Andiamo un po' a ragionare su questo articolo in maniera un po' scherzosa, ma anche intenzionale, perché ci sono alcuni dati che in effetti sono stati tirati fuori da questa stima che non sono banali. Quindi è giusto andarli ad analizzare e rifletterci, sapete bene che poi è impossibile andare a prevedere queste cose nel lunghissimo periodo, no, dopo dieci anni. Allora, iniziamo da quello che è l'analisi della nostra tabella della Bitcoin Monthly Returns per cercare di capire un po' che cosa è successo. Allora, gennaio, ragazzi, 2023 siamo qui. Gennaio 2023 scoppiettante, potrei dire, perché è stato uno dei migliori mesi negli ultimi 3-4 anni. Anche il 2020-2021 che avevano poi sancito una Super Bull Run, non hanno fatto mesi simili al gennaio 2023. Soltanto questo qui, vedete, era stato simile e poi nel novembre c'era stato del 2020, c'erano stati queste impennate, diciamo, verso la fine, che erano stati un po' più alti, ma comunque non tantissimo. Qui circa il 3%, qui il 7%. Quindi più o meno, questo ve la dice lunga sulla qualità del mese di gennaio di quello che è successo. Però febbraio, come vedete, vi stavo anche anticipando in questo video, non è stato in effetti un mese scoppiettante, se non che il mercato era andato anche di sopra di questi livelli poi di close, però non è riuscito a mantenersi molto molto alto. Il mese di marzo è iniziato benino, perché, insomma, è positivo, però ovviamente è la prima giornata, quindi siamo al primo maggio, a marzo, quindi questo è solo un'oscillazione di natura temporanea. Andiamo a guardare, però, una cosa interessante, cioè la struttura di questa serie. Verde, 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 anche il mese di marzo. Allora, è possibile una cosa del genere? Assolutamente sì, perché, come vedete, ci sono state un sacco di cluster con serie storiche che su Bitcoin portavano tre mesi positivi nel corso, insomma, anche dell'intero anno. Guardate qui, però voglio farvi riflettere adesso sul vero significato sopra di questa questione qui, cioè tutte queste cluster che vi sto andando ad evidenziare, che hanno portato il terzo mese di fila, magari positivo, venivano tutte nelle fasi di mercati bull, cioè non in anni di bear market, ma solo in anni in cui si iniziava una nuova fase ciclica di Bitcoin, soprattutto il nuovo ciclo dell'arming, quindi dopo, in sostanza, il bear market. E in effetti anche questo dato, quello di marzo, potrebbe essere, perché no, utilizzato per comprendere se effettivamente siamo un po' fuori limite, no? Per dire si continua col bear market che abbiamo visto da novembre 2021, dai massimi novembre 2021. Perché se effettivamente anche il mese di marzo sarà un mese verde, magari potremmo dire siamo un po' in una struttura ciclica differente. C'è da dire che febbraio è lettissimo, quindi è un verde per modo di dire, ma viene da un gennaio che comunque aveva fatto numeri stellari. Quindi in linea di massima io questa tabella, che comunque vi mostro anche un po' a titolo informativo, la considererei solo nell'ottica di una conferma di quello che poi magari i grafici dovrebbero dirci. Cioè, se il mese di marzo sarà un mese magari dove Bitcoin porta a casa un 15-20%, un 15%, in generale probabilmente indicherebbe un'ulteriore conferma che il bear market che abbiamo visto dal 2021 fino al minimo di novembre 2022 finisce lì. E poi siamo in una nuova fase, bisognerà comprendere un po' questa nuova fase dove potrebbe portare, quali sono i limiti e i rischi, anche se questa eventuale nuova fase poi magari può diventare ribassista come la precedente e quindi creare un nuovo bear market. Però di questo avremo tanto tempo per parlarne. Io direi che questa tabella la aggiorniamo poi a marzo, a fine mese ragazzi, e andiamo a cercare di comprendere se effettivamente questa questione della ripetitività del terzo mese eventuale verde, anche se questo febbraio è un po' verde per modo di dire, potrebbe essere comunque utilizzata anche per conferma di un dato. Conferma che comunque avverrebbe, già vi dico perché dovremmo andare, per fare un marzo molto positivo, dovremmo andare al di sopra dei 25.500 e 26.000 dollari e quindi i grafici confermerebbero a prescindere. E noi da buon trend, da buoni trend follower, diremmo sempre trend is your friend e quindi l'indicazione dei prezzi non si smettisce, cioè non si può smettire. Allora, Bitcoin punta ad arrivare a 10 milioni di dollari come target price. Allora, 10 milioni di dollari come target price mi viene da sorridere. È veramente possibile il raggiungimento di un target price di questo livello per Bitcoin? E vi anticipo, come vi avevo anticipato, vi confermo che questa previsione che è stata tirata giù da Jesse Mayers non è neanche casuale, cioè non è una cosa buttata lì, numeri a caso oppure un ternallotto, ma ha un riferimento di natura oggettiva e addirittura un riferimento da analisi fondamentale e una logica che però possiamo anche decidere di non sposare in pieno. In effetti, ragazzi, una logica del genere non la sposi in pieno e vi dirò anche il perché, ma non è da escludere, insomma, ragazzi, e ve lo dico, Maria, molto chiara. Allora, Jesse Mayers ritiene che Bitcoin possa aumentare il suo valore di mercato di circa altre 500 volte grazie alla sua scarsità e ad altre caratteristiche, le solide, a dire la verità, che poi sono sempre portate nella narrativa che riguarda Bitcoin. Quindi Bitcoin potrebbe appare a 500 per nei prossimi decenni. Ovviamente qui si parla chiaramente di decenni ed è corretto parlare di decenni, quindi almeno un ventennio, perché in questo caso, ragazzi, si ragiona in termini proprio di analisi fondamentali perché questo numero non viene fuori casuale ed è un numero derivato da una percentuale della ricchezza mondiale esistente. Allora, in sostanza, Mayers sostiene che la sua capacità di apprezzarsi nel tempo pone Bitcoin migliore del loro standard che è un bene rifugio, ma non può aumentare il suo valore, mentre Bitcoin, oltre ad essere, secondo lui, ovviamente, un bene rifugio, può aumentare il suo valore. Grazie al design, insomma, design intende la sua struttura informatica, un po' l'idea che abbiamo già compreso, insomma, che c'è anche nel Bitcoin standard, un po' tutte le narrative storiche di Bitcoin, ma come lo calcola questo livello? Allora, ragazzi, la questione è molto semplice. Secondo il massimalista di Bitcoin, una parte di quella che è la ricchezza dell'intero pianeta a un certo punto sarà detenuta in valore Bitcoin, non soltanto in valore dollaro. E in questo caso fa una semplice calcolo di natura percentuale, quindi dice, se effettivamente una parte di quella ricchezza verrà detenuta in Bitcoin, allora il Bitcoin deve valere tantissimo di più per aumentare la percentuale di ricchezza mondiale che viene mantenuta in Bitcoin. Allora, andiamo a fare un po' il concetto. Allora, Myers calcola che l'allocazione globale di Bitcoin pare allo 0,05 della ricchezza disponibile nel 2023. Io sono riuscito a trovare i dati solo fino al 2022, fino allo scorso anno, ragazzi, perciò, o 2021, perciò non mi risulta lo 0,05, ma un po' di più, però non è importante. Bitcoin ora vale 400 miliardi di dollari e in pratica corrisponde allo 0,05% della ricchezza dell'intero pianeta. Ciò significa, va bene, in maniera molto semplice, che se la ricchezza dell'intero pianeta si sposta su Bitcoin e diventa, per esempio, lo 0,1%, il valore attuale di Bitcoin deve raddoppiare. Se diventa lo 0,2%, dovrà raddoppiare di nuovo. Lo 0,3%. Raddoppiare ancora. Raddoppiare ancora 0,3% no. un 50% di più. 0,4%. Raddoppiare. 0,8%. Raddoppiare. Allora, questo è, concettualmente, il motivo che porta Myers a dire, o Myers, non so come si pronuncia, ragazzi, che lo porta a indicare il Bitcoin a 10 milioni di dollari, perché dice il 25% della ricchezza mondiale sarà detenuta fra qualche decennio il Bitcoin. Secondo me, il 25% è un po' un tattino, insomma. Ok, può essere, può essere, però mi sembra un tattino. ma una via di mezzo forse potrebbe in effetti essere validante. Concettualmente, quindi, questa previsione in termini di pricing ci interessa tanto e non quanto, quindi i 10 milioni, anche perché se poi arrivano fra 40 anni, cioè magari non interessa a nessuno, almeno di quelli che siamo qua, magari dipende, insomma, probabilità che avete, no ragazzi, però in generale comunque è un orizzonte troppo lungo, ma concettualmente ci interessa il fatto che c'è dietro questa previsione che non è capata in aria, cioè il concetto che se l'adoption di Bitcoin a livello mondiale dovesse in effetti incrementare, il suo stesso valore incrementerà in quanto corrispondente a una percentuale della ricchezza totale disponibile per l'intero pianeta. Vi faccio vedere la lista di quelle che sono il total wealth dell'intero pianeta, quella che ho trovato su Wikipedia è relativa all'anno 2021 perché è stata pubblicata nell'anno 2022 da Credit Suisse ed è 463.567 miliardi di dollari. Questa è la total wealth che chiaramente ragazzi basta semplicemente dividere i 400 miliardi di capitalizzazione attuale di Bitcoin diviso questo livello e invece che corrisponde allo 0,08 qualcosa per cento. Probabilmente il wealth del pianeta nel 2022 è salito ancora, io non ho i dati e quindi in questo momento Bitcoin non rappresenta più neanche lo 0,08 ma lo 0,05%. Questo significa in maniera molto semplice ragazzi che probabilmente Bitcoin che arriva ad essere l'1% della ricchezza dell'intera popolazione mondiale ovviamente avrà un valore di capitalizzazione decisamente più alto di quello attuale. In parole povere giusto vi faccio giusto un calcoletto così a mente ragazzi significa in pratica che se Bitcoin dovesse arrivare all'1% della ricchezza mondiale circa dovrebbe più o meno più o meno aggiungere 1,0 agli attuali livelli di prezzo e quindi arrivare per esempio ad essere pari a 240 250 mila dollari di valore questo è assolutamente possibile ovviamente anche su questo su questa base si potrebbero fare diverse previsioni se arriva al 2% della ricchezza mondiale allora raddoppia ancora e quindi arriva a 500 milioni e 500 mila dollari l'uno ragazzi allora in linea di massima sono stime neanche precise sono stime di natura qualitativa però il concetto l'avete capito no quindi in base a quanto bitcoin viene adottato come riserva di una ricchezza come detenzione di una ricchezza mondiale aumenterà il suo valore e questo è oggettivo questa non è una previsione questo è un dato oggettivo ragazzi e vi fa comprendere anche il concetto da dove arriva il vero valore di bitcoin e quello che dovremmo andare a controllare per cercare di comprendere se effettivamente questo asset potrà avere numeri stellari e anche come è un po' insensato non parlare di milioni di dollari senza comprendere poi questa relazione cioè l'adoption di bitcoin dà il suo valore ed è molto importante perché più il mondo lo adotta come riserva del proprio valore e a quel punto varrà sempre di più è chiaro che se voi pensate poi che il mondo si sposti tutto su bitcoin allora fatevi voi i calcoli e diventate numeri vedrete numeri stellari vabbè allora detto questo passiamo invece al grafico che volevo farvi vedere oggi fichissimo grafico ragazzi questo è lo spread tra standard e pulse 500 e bitcoin cioè un grafico di contrapposizione che mette in evidenza quando conviene investire su standard e pulse 500 e quindi in questo caso essere difensivi sui mercati finanziari e quando conviene invece sguicciare e investire su bitcoin quindi in crypto in generale cioè essere un po' più aggressivi sui mercati finanziari in crypto ovviamente sempre top crypto ragazzi non i singoli progetti che poi camminano per i fatti loro ok quindi non mi fate ripetere sempre le stesse cose questo è un grafico che voi vedete di natura ribassista perché io ho messo in relazione non bitcoin con sp500 ma il contrario quindi è il valore di sp500 espresso in termini di bitcoin quindi questo significa che scende man mano scende molto in quanto più bitcoin sale più il valore di sp dell'indice sp500 vale di meno in termini di bitcoin quindi più scende più vuol dire che bitcoin è forte andiamo a fare un giochino di analisi ciclica insieme insomma ragazzi ok dai dalle strutture che si evincono da questo grafico ci sono dei macro cicli da 4 anni i famosi cicli di bitcoin da 1470 giorni 1400 giorni e io ne ho posizionato un altro qui per fare un gioco con voi proprio in conclusione di questo video da 1456 giorni che finisce a ottobre del 2025 in questi macro cicli da 4 anni abbondanti la struttura di bitcoin è stata sempre la stessa anche rispetto ad SP500 cioè faceva dei cicli che partivano rialzisti e poi crashavano partivano rialzisti e poi crashavano cosa significava? significava che nella prima parte di queste strutture cicliche bitcoin aveva poco perdeva in sostanza andava in bear market rispetto ad SP e quindi era più conveniente sguicciare su investimenti di natura più tranquilla ovviamente SP è sempre un azionario sono azionari USA però il dato che noi otteniamo da questa analisi è quella che ci conviene o restare in cash o switchare su obbligazionario ad esempio o su titoli difensivi questo è il significato ma quando questo tipo di grafico inverte e inverte a ribasso in questo caso vuol dire che la forza relativa dell'indice americano standard 500 è minore di bitcoin e questo significa che bitcoin ha maggiore forza relativa delle azioni in generale 500 più capitalizzate perciò si sguiccia in risk on si dice così in termini di asset allocation ragazzi quindi rischiamo un po' di più andiamo a controllare una cosa veramente interessante interessantissima che possiamo fare insieme qual è stato il livello di distanza tra io uso le close per questi grafici ragazzi non mi piace usare le shadow perché tanto sono grafici di spread allora la distanza tra il minimo e il massimo della fase ascendente di questo grafico che corrisponde quindi alle fasi di bear di bitcoin di ribassisti di bitcoin 413 giorni andiamo a riposizionare anche questa struttura qui ragazzi e andiamo a vedere la distanza sempre fra la struttura di massimo aspettate che vi devo spostare un po' di lineette cicliche altrimenti non se ne esce più e ci incasiniamo con la ecco qui con la visuale grafica allora qui ragazzi la distanza fra il minimo e questa fase è stata 364 giorni o se consideriamo il doppio massimo che c'è in questa struttura quindi un doppio massimo sia in termini di shadow ma anche più o meno se vedete in termini di close se consideriamo che questo doppio massimo è 413 anche questa l'ultima fase che è probabilmente iniziata in questa zona è arrivata al picco a novembre 2021 385 giorni quindi siamo vicini qui erano o 3 e 57 ragazzi o 3 e 3 o 4 e 13 o in mezzo insomma è la stessa cosa tanto parliamo di tempo e quindi c'è un'alta volatilità quindi qualche giorno in più non cambia assolutamente niente il concetto è comprendere una fase temporale allora questa fase temporale è significativa perché poi andiamo a vedere anche il dato tecnico cioè il breakout per esempio di queste medie che sta facendo proprio in questi giorni significativa perché potrebbe indicare che in effetti questa fase la fase di rimbalzo dell'SP500 rispetto a Bitcoin quindi la fase di forza relativa maggiore di standard plus 500 rispetto a Bitcoin sta terminando o addirittura è proprio terminata ragazzi va bene questa fase in questa zona qui tra le altre cose le strutture cicliche sembrano ripetersi anche in questo caso ovviamente ci sono delle serie imperfezioni di natura insomma sul grafico di natura sui minimi ma questo vi ripeto è rilevante perché tanto non è tradabile una cosa del genere però il significato è anche dato dal breakout di queste medie medie che io ho posizionato a 52 settimane a 26 settimane perché siamo su time frame settimanale quindi ci dicono in pratica che il breakout al di sotto della media dell'anno che questo spread probabilmente sta assumendo una struttura poi di natura ribassista e che potrebbe continuare e quindi in pratica ci indica una modalità risk on su crypto rispetto ad sp500 e questo porterebbe anche indicare che magari possiamo in effetti essere in una nuova fase quadriennale proprio di bitcoin fase quadriennale ragazzi che si spinge fino a ottobre 2025 dove in teoria se questo ciclo è una struttura naturale andremo poi a fare la struttura di massimo di bitcoin di questo nuovo ciclo che a questo punto potremmo considerare una nuova struttura ciclica quella dell'albing che dovrebbe essere anche al di sotto di questo precedente livello vi ripeto il livello in sé non è importante in quanto è un grafico di spread ma è importante il significato cioè modalità risk on su bitcoin cosa ne pensate di questa cosa l'ennesimo grafico che ci indica questo livello ovviamente è un grafico di lunghissimo periodo 4 anni quindi non significa niente se domani bitcoin crolla di un po' ragazzi ok ricordatevelo questo è un grafico a 4 anni stiamo cercando di capire se conviene in questo momento spostare la nostra asset allocation da quelli che sono magari investimenti poco rischiosi alle crypto che sono molto rischiosi e il significato di questo grafico è molto molto interessante ovviamente ragazzi sempre data analysis sono quindi può essere anche che per la prima volta cambi questo grafico e quindi magari poi sale ancora fa un nuovo massimo cosa che non aveva fatto fa una cosa del genere quindi può assolutamente fare quello che gli pare ragazzi in quanto stiamo analizzando delle serie storiche che hanno anche una bassa ripetitività perché sono due volte i casi sono pochi però è significativo secondo me è molto interessante andare a guardare modalità riscon vi piace sì o no fatemelo sapere nei commenti per oggi è tutto ciao ragazzi grazie